L'ultimo post di Selvaggia Lucarelli su Instagram è un «attacco» al suo giornale. La sua frase ha scatenato l'ironia del web, rendendo virale il tutto. Tagliente come sempre, oggi la giornalista più irriverente del web si è scagliata niente meno che contro il suo giornale. Parliamo di Selvaggia Lucarelli ed è il fatto quotidiano, testata diretta da Marco Travaglio nel cartaceo e da Peter Gomez nella sua versione web. La Lucarelli è collaboratrice fissa del giornale, ma oggi ha condiviso sul suo profilo Instagram lo screenshot di una notizia pubblicata, commentandola con la sua solita ironia. E tra i commenti al post, gli internauti si sono sbizzarriti con le ipotesi più assurde, arrivando addirittura a citare l'ercio.it vista l'assurdità della notizia. Ancora una volta, al centro della questione è finito Damiano De Maneskin, nelle ultime settimane finito sulla cresta dell'onda insieme al resto del suo gruppo. Questa volta, però, il motivo ha dell'assurdo. Il fatto quotidiano ha costato Damiano David e Lady Diana Spencer, sottolineando una somiglianza sospetta e alimentando una teoria del complotto. La cosa, diciamolo, è abbastanza ironica e ha fatto ridere anche la Lucarelli che ha subito screenshotato la notizia, postandola sul suo canale Instagram. Ma è il suo commento la cosa ancora più ironica. Non avete notato una somiglianza tra me e Michelle Obama? I suoi fan sono subito partiti nelle ipotesi più bizzarre, paragonandosi a Julia Roberts o accostando il batterista Ethan a Meghan Markle. E io che pensavo fosse l'ercio, ha commentato qualcuno, sottolineando l'assurdità della notizia. I più invece, ci hanno semplicemente riso su. I più invece, ci hanno semplicemente rispondi. I più invece, ci hanno semplicemente rispondi. Ci hanno semplicemente rispondi. Grazie a tutti.